Sono ancora parecchie le zone d'ombra su quanto accaduto a Gela nei giorni scorsi. Un giovane di 24 anni è rimasto colpito alla schiena da un colpo di pistola. L'uomo si è presentato al pronto soccorso dell'ospedale Vittorio Emanuele della città del Golfo, accompagnato dai familiari. Vista la gravità della situazione, il 24enne è stato immediatamente sottoposto a un intervento chirurgico, che ha fortunatamente avuto buon esito e adesso il paziente è ricoverato e tenuto sotto osservazione. Stando ai primi elementi raccolti, il giovane non è in pericolo di vita. Sono adesso da stabilire i contorni della vicenda e c'è anche da chiarire il movente con gli investigatori della polizia che stanno cercando di risalire all'identità dello sparatore e di rilevare quale arma sia stata usata per l'agguato. Episodi del genere non sono purtroppo una novità a Gela, dove circolano parecchie armi, anche di natura clandestina, e dove si registra una presenza forte di criminalità sia comune organizzata, nonostante i colpi che lo Stato ha inferto all'illegalità nel corso degli anni.